In questi tre anni le iniziative sono state davvero tante, tra l'altro alcune spontanee, nate un po' all'improvviso, tanti talenti che si sono dati da fare con le parole e la musica di Pino, anche ieri sera sul lungomare, poi il 2018 avrà questi eventi unici, in particolare poi con il grande concerto al San Paolo, ma anche l'evento di marzo. Pino è finito e ci manca molto, ma la sua musica non finirà mai e la dimostrazione è stata in questi tre anni, che forse mai come in questi tre anni c'è stata una diffusione della musica di Pino che ha attraversato le generazioni dai più piccoli ai più grandi. Sentire cantare dei ragazzi giovanissimi canzoni di quando non erano nati di Pino Daniele negli anni 70-80 fa capire com'eterna la contaminazione musicale di uno straordinario artista come Pino, forse l'unico che attraverso le parole e la musica è riuscito a rappresentare Napoli nella sua profondità e nella sua complessità in tutti i colori della città, mille colori.